Abbiamo un circuito composto da due generatori di tensione e da due resistori. In particolare abbiamo un generatore di tensione indipendente, che genera una tensione sui capi di 18V, con queste polarità. E abbiamo un altro generatore di tensione, che come vediamo ha un simbolo differente, poiché è un generatore di tensione dipendente. Cioè lui genera una tensione che dipende da un altro valore, in particolare da questa V con R, che è la tensione ai capi del resistore da 5 Ohm. Quindi non è un generatore indipendente, non genera una tensione prefissata, ma la sua tensione vale 5 volte la tensione ai capi del resistore da 5 Ohm. Ci viene chiesto di calcolare la corrente I che circola in questo circuito. Per calcolarla possiamo applicare la legge di Kirchhoff delle tensioni. Osservando che se questa è la corrente I che circola in questo circuito, in questo verso, su questo resistore avremo questa caduta di tensione e su quest'altro resistore avremo questa caduta di tensione, con questa polarità. Adesso possiamo quindi scrivere la legge di Kirchhoff delle tensioni percorrendo ad esempio la maglia, in questo verso. E considerando quindi con il segno positivo tutti quei dispositivi per cui, nel momento in cui li andremo a percorrere in questo verso, usciremo dal segno positivo e negativi invece le tensioni in corrispondenza di quei dispositivi in cui entreremo nel segno positivo della loro caduta di tensione. Vediamo come si fa. Partiamo ad esempio da questo resistore di 6 Ohm. Percorrendo in questo modo la maglia entriamo nel segno positivo della sua caduta di tensione, quindi dobbiamo considerare questa tensione qui con il segno negativo. Intanto quanto vale questa tensione la possiamo calcolare dalla legge di Ohm. Sappiamo che in questo resistore circola una corrente I, il resistore vale 6 Ohm, e quindi per la legge di Ohm R per I, e quindi 6 Ohm per I. Quindi cominciamo a scrivere qui meno 6 Ohm per I. Perché meno? Perché stiamo entrando nel segno positivo di questa caduta di tensione. Passiamo a quest'altro dispositivo. Percorrendo la maglia in questo verso usciamo dal segno positivo, qui indicato, e quindi questa tensione della batteria da 18 Volt la dobbiamo considerare con il segno più, più 18 Volt. Entriamo ora nel segno positivo di questa caduta di tensione ai capi del resistore da 5 Ohm, e quindi dobbiamo considerarla con il segno negativo. In particolare la caduta di tensione ai capi di questo resistore è data dal suo valore 5 Ohm per la corrente che lo attraversa, che è ancora una volta I, quindi scriveremo meno 5 per I. Infine, attraversiamo anche questo dispositivo, il generatore di tensione dipendente, stiamo entrando nel segno positivo di questa tensione, se usiamo questo verso di percorrenza, e quindi anche per questo dispositivo utilizzeremo il segno meno. La tensione ai suoi capi è pari a 5 Vr, quindi scriveremo meno 5 Vr. Il tutto, secondo la legge di Kirchhoff delle tensioni, deve essere uguale a 0. Quindi la somma di tutte le tensioni, la somma algebrica di tutte le tensioni misurate in questa maglia, deve essere uguale a 0. Bene, adesso abbiamo un problema, abbiamo un'equazione con due incognite, la I e la V con R. Sappiamo dalla matematica che non è possibile quindi trovare il valore di due incognite se disponiamo di una sola equazione. Dobbiamo quindi aiutarci cercando una seconda equazione, che è molto semplice da trovare perché possiamo ricavare ad esempio V con R analizzando questa parte del circuito. Vediamo che V con R altro non è che la caduta di tensione ai capi dei 5 Ohm, del resistore del 5 Ohm. Quindi V con R altro non è che 5 Ohm per la corrente I che circola in questo resistore. E a questo punto possiamo sostituire questo valore di V con R in questa espressione. quindi riscriviamola tutta meno 6 per I più 18 Volt meno 5 per I meno 5 per V con R dove V con R vale 5 per I. 5 per I. Ora tutto diventa molto più semplice, questo 5 per 5 fa 25, ce lo possiamo scrivere qui, e possiamo risolverci questa equazione dove l'unica incognita è la corrente I. Lasciamo i termini in I a sinistra e portiamo i termini noti a destra. Quindi abbiamo meno 6 I, lo lasciamo qui, poi abbiamo meno 5 I e poi meno 25 I. Portiamo a destra il 18 che diventa meno 18. Sommiamo questi termini in I, sono 6 e 5 11 più 25 fa 36, cambiato di segno, sono tutti negativi, viene meno 36 I uguale a meno 18. Ora cambiamo entrambi i termini il segno, facciamo positivo, e quindi viene fuori che I altro non è che 18 diviso 36. e questo è uguale a un mezzo, quindi a 0,5 A. Bene, questa corrente appena calcolata rappresenta l'incognita del nostro problema, la soluzione da trovare, possiamo dunque dire che la corrente I, che circola in questo circuito, è uguale a 0,5 A. e con questo abbiamo risolto l'esercizio, grazie per l'attenzione e alla prossima!